Non sapremo mai se Murigno, quando dice che l'Inter deve combattere contro altre cose, si riferisca anche a storie come quelle che hanno invaso il venerdì santo, vigilia di una giornata che può lasciare segni profondi in classifica. Come se non bastassero gli strasciche delle dichiarazioni viacciate di Murigno, raddoppiate dall'intervento sul sito ufficiale. Siamo solo noi, stanchi, infortunati, squalificati. È stata la chiamata raccolta di tifosi, rifiutando tutte le interpretazioni che erano state date al suo primo sfogo. Più arrabbiato di lui è sicuramente il presidente Moratti. Gli avvocati di Vieri hanno presentato alla procura della Federcalcio la richiesta di revoca dello scudetto del 2006, quello assegnato all'Inter dopo la retrocessione della Juventus. La mossa sorpresa si incastra nella causa civile per esarcimento danni intentata da Vieri a Moratti e alla Telecom per la vicenda di pedinamenti e spionaggio arrivata all'udienza preliminare davanti al Tribunale di Milano. Insomma, i legali dicono, se Moratti dovesse essere condannato, il suo comportamento andrebbe punito con la più grave delle sanzioni sportive, la perdita dello scudetto, appunto. E dopo le anticipazioni dell'avvocato di Moggi, ecco di nuovo lo stilicido delle intercettazioni. 10 gennaio del 2005. Bergamo comunica a Moratti, che per Bologna Inter di Coppa Italia, quindi senza sorteggio arbitrale, finita 3-1 per i Nerazzurri, ha designato Gabriele. Bergamo testualmente dice, Il gruppo ha molto apprezzato il lavoro che noi abbiamo fatto nei confronti di Gabriele Palanca e quindi ho pensato di fargli rientrare in Coppa Italia. Uno viene a fare l'Inter. E uno fa il Milan. Gabriele è sempre stato un buon arbitro. Molto regolare. Non ho mai avuto contestazioni. È la risposta del presidente interista che aggiunge, va bene, mercoledì. Lo andrò a trovare prima della partita. E Bergamo. Questo gli farà piacere. Fin qui il dialogo diffuso dall'agenzia ANSA, dall'Inter, nessuna reazione ufficiale. La teoria prevalente è che si tratti di schermaglie giudiziarie che soprattutto, nel caso delle intercettazioni, hanno lo scopo di dimostrare che con i designatori parlavano tutti e non solo gli imputati del processo di Napoli. La differenza, nel giudizio del Tribunale, la faranno i contenuti dei dialoghi. Un paio di notizie da aggiungere. Innanzitutto via riferisco quanto ha detto sempre a l'ANSA Luciano Moggi. Ha detto, la cosa è semplice. Qui sono tutti innocenti o tutti colpevoli in questo processo di calciopoli? Secondo me, dice Moggi, sono tutti innocenti. Forse non si aspettavano queste intercettazioni riferendosi a quanto abbiamo detto tra Moratti e Bergamo. Invito tutti a riflettere, ha detto Luciano Moggi. Ma attenzione invece a quanto dicono gli inquirenti. Perché gli inquirenti, altra notizia, scagionano l'Inter, gli inquirenti della procura di Napoli, che hanno dato il via, hanno istruito il processo su calciopoli. Infatti cosa hanno detto su quanto è uscito tra Moratti e Bergamo? Hanno detto, il reato non è parlare al telefono, come possono aver fatto Bergamo e Moratti in questa circostanza, ma è reato, dicono giustamente gli inquirenti, quando si stipulano accordi illeciti. Le vittime non possono essere trasformate in autori del reato. Quindi per capirci, scagionano l'Inter con queste parole. Insomma, l'Inter è vittima e non colpevole di questo processo di calciopoli. Insomma, di quanto è accaduto.